buongiorno a tutti in questo nuovo video vi voglio parlare della sincronizzazione e del telecomando cobra ai moduli di sparo cosa significa sincronizzare questa è la prima procedura che viene fatta per poter utilizzare il sistema cobra e sostanzialmente associando i moduli di sparo al proprio telecomando quindi è una vera e propria procedura di associazione che viene fatta affinché il telecomando possa leggere e quindi comandare i moduli di sparo inoltre questa procedura va fatta una volta sola perché una volta fatta rimane in memoria quindi una volta ha sincronizzato il modulo o i moduli al telecomando questa sincronizzazione rimane in memoria e rimane in memoria anche se spegnete i moduli si togliete la batteria o li tenete spenti anche per 10 anni chiaramente questa questa associazione può essere sovrascritta nel senso che voi potete o aggiungere moduli al telecomando oppure decidere di rimuovere un modulo dal telecomando e associarlo ad un altro modulo e per fare questo basta semplicemente rifare la sincronizzazione del modulo con l'altro telecomando per fare questa sincronizzazione la procedura è veramente semplice e veloce allora basta premere i tasti sync sia sul telecomando sia sul modulo di sparo che si vuole sincronizzare al telecomando per 5 secondi contemporaneamente vedete spingiamo il modulo lampeggia tre volte 1 2 3 e lasciamo a questo punto sul telecomando vedete viene indicato il valore p quindi basta spegnere il telecomando riaccenderlo quindi il telecomando si riavvia normalmente fa tutti i test e quando il telecomando si è riavviato i due moduli sono perfettamente sincronizzati ora come facciamo a vedere se i due moduli sono effettivamente sincronizzati bene basta semplicemente posizionarsi sul canale del modulo vedete in questo caso canale 1 e provare ad armarlo se il modulo si arma ovviamente i moduli sono sincronizzati oppure si può semplicemente anche valutare con test degli accenditori se mettendo gli accenditori sul modulo vengono visti dal telecomando insomma ci sono diversi metodi per capire se i due moduli si leggono ecco in questo caso armiamo il telecomando vedete si arma anche il modulo di sparo quindi siete certi che i due moduli sono sincronizzati un'altra maniera per vedere se i moduli sono sincronizzati è quella di fare il test del segnale radio quindi se il dal telecomando si riesce a fare il test del segnale radio sul modulo vuol dire che i due moduli sono perfettamente sincronizzati una cosa molto importante da precisare è questa mentre ad un trasmettitore quindi al telecomando 18r2 possono essere associati o sincronizzati fino a mille moduli di sparo invece al modulo di sparo non può essere associato più di un telecomando per volta quindi vuol dire che se noi prendiamo come in questo esempio il nostro 18m questo 18m come poi tutti gli altri moduli di sparo cobra può essere sincronizzato ad un solo telecomando per volta non c'è quindi la possibilità di avere la situazione nella quale un modulo di sparo possa essere associato a due telecomandi differenti nello stesso momento e questo appunto ci permette di poter escludere in maniera tassativa che utilizzando due telecomandi nello stesso momento un telecomando possa agire inavvertitamente anche su un altro modulo di sparo noi possiamo sincronizzare ad un solo telecomando fino a mille moduli di sparo quindi chiaramente la procedura è progettata per poter associare al telecomando non solo uno ma più moduli di sparo ecco vediamo come fare per fare una sincronizzazione multipla diciamo così dove abbiamo più di un modulo di sparo da associare al telecomando la procedura è sempre la stessa quindi ripetiamola per questo modulo anche se non sarebbe necessario visto che già sincronizzato ma lo ripetiamo solo per farlo vedere quindi premiamo il tasto sync di entrambi i moduli vedete aspettiamo i tre lampeggi 1 2 3 ecco in questo caso questo modulo qui è stato sincronizzato se vogliamo sincronizzare anche questo senza spegnere il telecomando ripetiamo la procedura praticamente per questo modulo ecco era andato in standby lo riattiviamo quindi premiamo sync e aspettiamo i tre lampeggi vedete 1 2 3 e anche in questo caso il modulo è stato sincronizzato e possiamo ripetere questa procedura per tutti i moduli finito di sincronizzare i moduli vedete il telecomando che in questo momento si è messo su modalità programma p lo spegniamo lo riaccendiamo e quando ha finito di eseguire l'auto test per l'accensione tutto il sistema è sincronizzato noi possiamo sincronizzare ad un solo telecomando fino a mille moduli di sparo quindi chiaramente la procedura è progettata per poter associare al telecomando non solo uno ma più moduli di sparo ecco vediamo come fare per fare una sincronizzazione multipla diciamo così dove abbiamo più di un modulo di sparo da associare al telecomando la procedura è sempre la stessa quindi ripetiamola per questo modulo anche se non sarebbe necessario visto che è già sincronizzato ma lo ripetiamo solo per farlo vedere quindi premiamo il tasto sync di entrambi i moduli vedete aspettiamo i tre lampeggi 1 2 3 ecco in questo caso questo modulo qui è stato sincronizzato se vogliamo sincronizzare anche questo senza spegnere il telecomando ripetiamo la procedura praticamente per questo modulo ecco era andato in standby lo riattiviamo quindi premiamo sync e aspettiamo i tre lampeggi vedete 1 2 3 e anche in questo caso il modulo è stato sincronizzato e possiamo ripetere questa procedura per tutti i moduli finito di sincronizzare i moduli vedete il telecomando che in questo momento si è messo su modalità programma p lo spegniamo lo riaccendiamo e quando ha finito di eseguire l'auto test per l'accensione tutto il sistema è sincronizzato quindi adesso abbiamo sincronizzato i due moduli di sparo questo telecomando ciò significa che con questo telecomando possiamo agire su entrambi i moduli possiamo gestire entrambi i moduli quindi proviamo ad armare vedete in questo caso il modulo di sparo ha armato entrambi i moduli sono entrambi sul rosso quindi proviamo a sparare ci posizioniamo su canale 1 perché entrambi i moduli li abbiamo posizionati su canale 1 e spariamo quindi spariamo step vedete che entrambi i moduli si accendono vedete quindi noi stiamo sparando entrambi i moduli ok ora rimettiamoci su test e diciamo che avendo sincronizzato entrambi i moduli sul telecomando abbiamo creato sostanzialmente una rete univoca nella quale nessun altro può entrare quindi se noi abbiamo un altro telecomando cobra sincronizzato ad altri moduli questo telecomando non andrà a interferire con questo perché questi moduli sono sincronizzati in modo univoco e in modo cifrato a questo telecomando se vogliamo possiamo anche associare un modulo di sparo a un telecomando o più moduli di sparo un telecomando e quindi altri moduli di sparo a un altro telecomando perché ad esempio abbiamo in dotazione un sistema dove abbiamo tre telecomandi dobbiamo fare in un'unica serata tre diversi spettacoli quindi ci creiamo sostanzialmente tre gruppi di sparo ognuno associato al proprio telecomando in modo che si possa uscire su tre location differenti e sparare senza problemi oltretutto creando questi tre gruppi differenti di sparo potremo sparare anche nella stessa location senza avere il problema che un telecomando possa agire su un gruppo differente facciamo un esempio eccoci in questo caso abbiamo due telecomandi 18r2 identici e abbiamo due moduli di sparo ora questi due moduli di sparo sono stati sincronizzati a questo telecomando quindi se noi mettiamo in arma questo telecomando qui vedete noi lo posizioniamo in arma ok non succederà assolutamente niente vedete zero questo telecomando non ha trovato e quindi non ha armato nessun modulo perché perché i moduli di sparo che abbiamo attualmente in questo esempio sono sincronizzati a questo telecomando ok quindi anche se vi trovate nella stessa location con due telecomandi un telecomando funzionerà perfettamente con i moduli l'altro non farà assolutamente nulla perché non è stato sincronizzato a nessuno dei moduli però facciamo una cosa proviamo a sincronizzare questo telecomando a uno dei due moduli ad esempio facciamo una prova sincronizziamo su questo modulo di destra quindi premiamo il tasto sync su questo telecomando premiamo tasto sync sul modulo di sparo vedete farà i tre lampeggi 1 2 3 eccoci il telecomando si è posizionato in p lo riaccendiamo in questo momento abbiamo una situazione nella quale questo questo telecomando è associato al modulo di sparo 18m a sinistra questo telecomando è associato quindi è sincronizzato al modulo di sparo 18m che sta a destra qui quindi siamo in una situazione in cui abbiamo creato due gruppi di sparo ciascun gruppo diciamo così capitanato o comandato da un telecomando quindi noi possiamo prendere questo telecomando questo modulo di sparo e andare nella location x a sparare possiamo prendere questo telecomando e questo modulo di sparo e andare alla location y a sparare ma possiamo anche stare nella stessa location perché per qualsiasi motivo possiamo gestire con un telecomando che ne so la piscina diciamo così e con un altro telecomando e altri moduli non so il campo dietro con le sfere possiamo chiaramente gestire tutto quanto anche con un solo telecomando perché come sapete essendo i moduli ponte radio essendo il sistema radio veramente efficiente potete agire a distanze molto molto grandi con un semplice telecomando ma mettiamo il caso che per qualsiasi motivo vogliate agire nella stessa location con due telecomandi differenti essendo i due telecomandi associati in modo univoco a due moduli di sparo differenti non avrete il problema della sovrapposizione quindi facciamo un esempio prendiamo questo telecomando lo armiamo vedete questo telecomando sta armando solamente il modulo di sparo di sinistra il modulo di sparo di destra non è stato armato perché questo telecomando è sincronizzato esclusivamente su questo modulo quindi se adesso noi ad esempio eseguiamo uno sparo ok su questo canale 1 vedete questo telecomando 18m posizionato sul canale 1 anche questo sul canale 1 ma questo non è sincronizzato questo modulo di sparo quindi se noi eseguiamo lo sparo vedrete che solo questo modulo di sparo praticamente eccolo qua canale 1 solo questo modulo di sparo sparerà se vedete l'altro non spara quindi questo per farvi vedere che la sincronizzazione vi permette di associare in modo univoco il telecomando al modulo di sparo senza avere sovrapposizioni anche qualora foste in una location con due telecomandi differenti e due gruppi di sparo differenti stessa cosa se procediamo con questo telecomando qui associato il 18m che sta qui a destra quindi se noi lo armiamo vedete faccio vedere darà uno che indica che solo un modulo è stato armato esattamente questo qua vedete qui c'è la lucetta rossa del led armato e quindi anche in questo caso possiamo sparare e se spariamo vedete spara esclusivamente il 18m che sta qui a destra se vedete spingo step sul 18m che sta a sinistra non succede nulla ecco quindi in questo caso vi siete creati due gruppi di sparo differenti e chiaramente a ciascun gruppo di sparo potete aggiungere successivamente qualsiasi modulo ripetendo la procedura che avete visto prima quindi potete arrivare a questo telecomando con mille moduli di sparo associati e a questo telecomando con mille moduli di sparo associati quindi è chiaro che la procedura di sincronizzazione è talmente semplice ma nello stesso momento talmente efficace da consentirvi di poter utilizzare questo sistema in maniera veramente rapida in maniera veramente precisa senza possibilità di errori quindi anche questo aspetto rende il sistema di sparo cobra il sistema di sparo più venduto al mondo proprio perché dà la massima efficacia la massima precisione ma con la massima semplicità per qualsiasi informazione potete chiaramente contattarci utilizzando i recapiti che trovate sul nostro sito internet e vi ricordo la nostra email www.brinafireworks.com il nostro sito internet www.brinafireworks.it per qualsiasi richiesta siamo a disposizione grazie per l'attenzione ci vediamo al prossimo video ciao